Su Loredana, siamo venuti qui al centro d'ascolto della Caritas perché credo che oggi più che mai è un punto di riferimento per i nostri concittadini. Sì, sono ormai quattro anni che lavoriamo incessantemente, proprio per creare in questo luogo, ma soprattutto nelle nostre persone, questo centro di ascolto e di accoglienza. In fondo, la casa, qualsiasi casa e qualsiasi ambiente, si concretizza nella presenza di persone accoglienti, prima di tutto. Quindi, in questi anni, con varie sfaccettature, anche un percorso di crescita di equip, siamo riusciti ad accogliere tantissime persone. Chiaramente, con molta verità, è chiaro che non tutte le situazioni riusciamo ad esaudire. Alcune sono veramente difficili da esaudire. Una porta di accoglienza che aiuti le persone a rinforzare le loro motivazioni, il coraggio di vivere, questo c'è sempre, sempre. Nessuno se ne va, diciamo così, senza qualcuno che l'abbia veramente accolto e voluto bene. Però, come noi sappiamo, la nostra realtà, soprattutto crotonese, è complicata e complessa. Tenendo conto che si parla sempre più di un aumento della violenza familiare, ecco, si ha il coraggio di venire qui, di chiedere aiuto, di poter sfogare anche la propria rabbia, di essere ascoltati? Sì, noi possiamo dire che questo momento di lockdown o comunque di situazione complicata, che incide psicologicamente su ognuno di noi, incide particolarmente su queste situazioni. Anche se, al dir vero, ci sono anche situazioni che hanno trovato una soluzione, perché i contatti più ravvicinati è stato un motivo per cui sono riusciti poi a ritrovarsi. Però è vero anche moltissimo che su situazioni difficili, anche già degradate anticipatamente, questa situazione è aggravato. E trovano, diciamo, ci sono delle situazioni che sono arrivate qui, che abbiamo accolto, che abbiamo cercato di capire, abbiamo cercato di orientare, perché il compito del centro d'ascolto è soprattutto l'orientamento per la persona. La persona che è vittima di violenza o vive in un contesto di grande violenza, che molto spesso è abbinato anche a una condizione di povertà, non solo morale, ma anche povertà concreta. E allora queste situazioni qui vanno accolte, ascoltate, orientate, con l'aiuto anche di persone con una certa competenza. Abbiamo la pescologa che si mette a disposizione, oltre a un medico di urgenza che interviene su delle situazioni dove è possibile. E soprattutto siamo in collegamento con il CAV, qui presente a Crotone, in continuo collegamento con il CAV. C'è una sinergia molto bella tra noi e il CAV qui presente, proprio per trovare una strada, una strada di possibilità.